Musica Ciao, sono Ana, faccio parte dell'equipe SOS Turismo Dentale ormai da due anni. Il mio lavoro in questo policlinico consiste nell'archiviazione dei dati. Più che altro è un lavoro abbastanza delicato, in più dopo che i pazienti ritornano in Italia io le contatto per sapere come è stato in clinica nel periodo che hanno soggiornato. Magari se sono stati dei problemi, magari se ci sono stati delle discrepanze in questo periodo per quanto riguarda la loggia, in clinica, come è stato in clinica, come è stato l'intervento chirurgicale. Più che altro sono dati abbastanza accessibili sia per il paziente, così magari riusciamo a migliorare la situazione in clinica, a trovare i punti forti. Quindi rimanete sempre attivi, aspettate la mia chiamata. Ciao a tutti, sono Rosario, vengo dall'Italia. Ho accompagnato mio fratello che doveva fare dei lavori dentali. L'impressione che ho avuto di questa clinica è che ci hanno ospitato, ci hanno accolti abbastanza bene, ho notato tanta professionalità, gli spazi sono abbastanza comportevoli e anche il lavoro che viene svolto dai medici. massima puntualità, cortesia, sanno parlare diverse lingue, quindi questo è un buon motivo per venire in questa clinica e il lavoro viene svolto in maniera puntigliosa. Vi saluto e vi consiglio la clinica. Grazie e buona giornata. Ciao cari amici, mi chiamo Augusta, sono nuova in questo team, in questa famiglia grande e bellissima famiglia. Sono contentissima perché mi trovo qua da Dio. Mi trovo da Dio perché tutti i miei colleghi diciamo che sono così gentilissimi, sono bravissimi, sono professionisti e mi trovo benissimo qua. Il sorriso è molto importante per te stesso, anche per la vita sociale diciamo. Vi aspettiamo qua cari miei perché qui troverete un ambiente dolcissimo diciamo e vi troverete bene. Grazie a tutti.